buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a risolvere un esercizio che mi è stato proposto da luca e io sono ben contenta di poterlo aiutare sperando di spiegarlo nel modo più semplice e più chiaro possibile in questo esercizio abbiamo due diodi messi uno posto all'altro quindi in controfase abbiamo le due batterie due tensioni da 5 e 10 volt e le resistenze vogliamo sostanzialmente vedere quando interviene un diodo e quando interviene l'altro se ci sono delle parti in cui non c'è nel contributo di uno nel contributo dell'altro e vedere di trovare una relazione che leghi la tensione di uscita con quella di ingresso e poi andarle a metterle su un grafico come iniziamo e come procediamo lo vediamo tra un attimo bene innanzitutto conviene fare secondo me dei piccoli ragionamenti iniziali in modo da capire un pochino dove andare a parare allora intanto il fatto che un diodo sia messo in questa posizione l'altro nell'altra ovviamente va da sé che non è possibile che funzionino entrambi contemporaneamente quindi non è possibile che siano tutte e due in conduzione poi possiamo ragionare in questo modo siccome quando sono in conduzione devono avere allora io vado qua a disegnare verde quindi qua ho detto verde e poi è venuto nero ma va bene ok ci riproviamo ok qua allora questa sarà la tensione ovviamente opposta al verso eventuale della corrente quando è conduzione e quindi qua nel momento che conduce io avrò 0,6 e 0,6 poi qui ho una batteria da 5 volt e qui ho una batteria da 10 entrambe con questo verso quindi va da sé che allora qua io avrò diciamo se voglio andare a vedere il potenziale che che devo avere qui affinché il diodo di 1 rimanga in conduzione io devo avere un potenziale inferiore a 5 meno 0,6 quindi qua rimarrà in conduzione fin tanto che la V in è inferiore a 4,4 volt per quanto riguarda invece la condizione qua e questo che cosa succede ecco un'altra cosa bisogna dire in questo adesso al momento ragioniamo su questo punto poi vediamo se questo punto per qualche motivo diventa anche questo allora invece andiamo nell'altro ramo nell'altro ramo l'abbiamo in questo modo e quindi qua abbiamo un 10 e un 10,6 quindi qua affinché questo rimanga in conduzione questo deve essere superiore a 10,6 il potenziale in questo punto bene quindi abbiamo un intervallo tra virgolette tra 4,4 e 10,6 in cui nessuno dei due va in conduzione quindi allora questi questi punti posso andarli a riportare qua in questo senso allora siamo supponiamo di essere con una tensione d'ingresso inferiore a 4,4 abbiamo detto che questo conduce quindi se qua è inferiore a 4,4 sicuramente questo è invece in interdizione quindi questo ramo è disconnesso e ovviamente se noi andiamo a focalizzare l'attimo in cui si disconnette il diodo io avrei proprio qua i miei 4,4 quindi in quel momento lì tra virgolette io vado a vedere il momento in cui si smette di condurre quindi ho il 4,4 qua e questo aperto e quindi tra virgolette io posso andare a riportare questo valore 4,4 a quello che è il valore dell'ingresso perché nel momento che si disconnette qua non circola corrente quindi il mio potenziale me lo ritrovo qua stesso ragionamento per il discorso 10,6 quindi quando io ho una tensione superiore a 10,6 è un po' come se tornassi indietro da 10,6 in su ok conduce questo e va bene poi vedremo come diventa in queste situazioni analiticamente la VO ma se io scendo sotto 10,6 in quell'attimo, quell'istante lì questo si apre io qua ho effettivamente 10,6 che mi fanno commutare il mio stato da ON a OFF e quindi valore che si ripropone sull'ingresso ora focalizzati questi due valori di tensione e vedendo che tra questi due valori nessuno dei due rami conduce quando entrambi sono interdetti avrò che sulla R3 praticamente ho il valore di la VIN ma sulla R3 non circola corrente poiché rimane appesa e quindi il valore dell'uscita, la tensione di uscita seguirà la tensione d'ingresso e quindi in quell'intervallo sono uguali praticamente bene, andiamo a svolgere questo analiticamente e andando ad effettuare i nostri conti dove servono allora per prima cosa abbiamo detto allora andiamo a dividerlo a fasce quello che poi servirà per andare a fare il grafico quindi ci sarà la parte 1 allora quando il ramo con anzi facciamo quando focalizziamoci sui diodi quando di 1 è ON quindi conduce deve essere V minore uguale a 5 meno 0,6 uguale 4,4 volt quindi in questo caso la corrente d'ingresso bene andiamo a vedere quanto vale l'uscita in questo caso quindi quando abbiamo il valore quando comincia ad entrare in conduzione quindi quando la tensione d'ingresso è inferiore a questo valore e quindi andiamo a considerare solo questo ramo deve essere ok andiamo a considerare solo questa parte di circuito qua abbiamo la nostra mamma mia tremento così la nostra Vout che ovviamente è tra questo punto VO vabbè tra questo punto E massa e andiamo a vedere anche un'altra cosa allora abbiamo che V è minore di 4,4 quindi abbiamo detto che questo è in conduzione quindi la nostra corrente sarà così I poi andiamo a vedere le tensioni sulle resistenze quindi così e così e andiamo a ricavare la nostra la relazione della nostra VO bene andando a ricavare la corrente la corrente sarà quindi andando praticamente a guardare la caduta di tensione tra le tra queste resistenze R1 e R3 sarà il valore 5 meno 06 meno la tensione quindi facendo semplicemente un giro di maglia diviso la somma delle resistenze trovo questa relazione e poi vado a sostituirla nella relazione dell'uscita della tensione di uscita dove la tensione di uscita sarà appunto 5 meno 06 meno la caduta su Vr1 che faccio come R1 per la I che ho ricavato qua da questa mi viene la relazione che lega in questa paia per questi valori lega il il valore di uscita e di ingresso quindi quando la V è minore è uguale fino al punto 4,4 dopodiché vado a vedere abbiamo detto quindi tra i valori 4,4 i valori 10,6 quindi anche questo andiamo a scriverlo parte 2 quindi possiamo scrivere 2 allora quando quando 4,4 minore uguale V minore uguale di 10,6 avrò avrò 1 e di 2 interdetti quindi vo è uguale a vi e quindi vado anche questa a cerchiarla così riquadrarla così poi vado a tirare le somme graficamente poi altro caso quindi come se dovessi andare a ovviamente creare delle parti a seconda dei valori di vi per poi crearle la relazione e quindi andare a fare il grafico quando vi è maggiore uguale di 10,6 allora d2 è on quindi è in conduzione d2 polarizzato direttamente quindi entra in conduzione e quindi anche in questo caso vado a considerare solo il ramo con vi r3 e la parte di d2 che vado a ridisegnare qua sotto bene in questo caso considerando solo questo ramo anche qua andrò a calcolare la i e poi la vout come somma praticamente di queste cadute di tensione quindi in questo caso avrò 10 più 06 più vr2 quindi andiamo a calcolare la corrente e poi facciamo come prima bene qua con qualche passaggio sempre giri di maglie sostituzioni mi viene sempre un'altra relazione della tensione di uscita rispetto a quella di ingresso bene a questo punto non ci rimane altro che andare a iniziare a fare il nostro grafico avremo avremo praticamente tre rette che andranno a comporre il nostro grafico a seconda dei valori vediamo insieme come fare bene ho riportato le tre relazioni i punti 4,4 e 10,6 quindi dobbiamo andare a vedere a ricavare i tre spezzoni di rette per poi andare a comporre il nostro grafico allora ci basta semplicemente dare un paio di valori quindi ad esempio nel primo supponiamo che vi sia 0 e quindi vo sarà 2,2 e quindi andrò a segnare il punto qua quindi qua passerà per questo valore poi il punto invece se ad esempio quindi facciamo intersezione con gli assi se vo è uguale a 0 abbiamo che vi è uguale a meno 4,4 e quindi sarà qua poi volendo possiamo anche andare a trovare un altro punto quindi se vuoi uguale a 4 4 diviso 2 2 quindi 4 con 4,2 quindi 1 2 4 2 qua e quindi sarà in questo punto andiamo a fare la prima retta che passa in questa parte qui fino a 4,4 poi da 4,4 a 10,6 sarà semplicemente una retta inclinata di 45 gradi poiché sono uguali e quindi prenderemo la parallela che taglia e poi andremo a fare l'altra parte bene questi sono i tre spezzoni dirette ovviamente adesso andiamo a prendere per ciascuna parte quella che interessa quindi io l'ho un pochino prolungate e adesso andiamo a vedere come raccordarle una con l'altra bene così ricavati anche i valori della Vout in cui c'è ovviamente il cambio dipendenza che ovviamente dovendo soddisfare la relazione VO uguale a VI saranno uguali 4 e 4 e 10 e 6 bene con questo l'esercizio è concluso spero di essere stata d'aiuto a tutti voi e a Luca soprattutto che me l'ha chiesto fatemelo sapere nei commenti ci vediamo domani per un altro esercizio